Cura naturale rapida per Vitlov, i batteri causano la maggior parte dei tipi di infezioni alle dita. L'eccezione a questo è il Vitlov erpetico, che è causato da un virus, l'organismo virale offensivo è il virus dell'herpes simplex di tipo IO2. Questo è lo stesso virus che causa infezioni da herpes orale o genitale, poiché le infezioni alle dita possono diventare gravi, è necessario prestare urgente attenzione, ottieni le bocche è la guida completa e più completa sul trattamento e il controllo di tutti i tipi di Vitlov, la guida tratta ampiamente delle cause e dei sintomi del Vitlov, di come prevenire Vitlov, dei fattori di rischio, dei miti e dei fatti comuni su Vitlov, le migliori opzioni terapeutiche per curare rapidamente il Vitlov, ogni aspetto del Vitlov è discusso in termini puramente profani per una migliore comprensione, utilizzare i rimedi domestici suggeriti nella guida per una sollievo sintomatico dal Vitlov e accelerare il processo di recupero, la maggior parte dei rimedi naturali suggeriti sono facilmente disponibili ed economici e puoi trovarne molti nella tua stessa cucina, visita il link curavitlov.curenov.info dato nella descrizione sotto per ottenere nel video. Oc. Oc.